Ci sarà bisogno di una forte opposizione in Regione, però il dilemma è andare all'opposizione in Regione o restare a fare il Sindaco a Bergamo? Questo è un tema personale, lo scioglieremo nei prossimi giorni. In realtà un'opposizione forte in Regione ci sarà di sicuro, perché con me hanno corso tanti bravi candidati che saranno sui banchi dell'opposizione in ogni caso. A me invece la possibilità di decidere se stare a Bergamo ancora, almeno per questo anno, oppure se stare nei banchi della Regione. Credo che sia giusto non fare una scelta frettata stasera, così basata sull'emotività. Vorrei pensarci bene.